Sono stati ufficialmente pubblicati i primi bandi del flaggionio 2, sono rivolti ai pescatori, ai proprietari, agli armatori delle imbarcazioni da pesca e alle PMI che si occupano di lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico, con l'opportunità anche di aprire nuove aziende, nuove attività. Vanno dall'acquisto di mezzi o attrezzature al miglioramento delle attività di trasformazione del pescato, sono i nuovi bandi a livello comunitario per lo sviluppo della pesca e del settore marittimo. Per accompagnare pescatori e armatori nell'utilizzo delle risorse, il gruppo di azione locale Flaggionio 2, che abbraccia 45 comuni tra le province di Catanzaro e Reggio Calabria, già da mesi ha avviato una serie di attività di animazione territoriale. Il territorio è molto vasto, siamo il flagg più grande d'Italia, è uno dei più grandi d'Europa anche, sono 200 chilometri di costa che vanno da Belcastro in provincia di Catanzaro a San Lorenzo in provincia di Reggio. Dunque via libera idee e progetti di enti locali, aziende e pescatori. C'è un ampissimo ventaglio di possibilità, basta solo avere l'idea. Inoltre la struttura tecnica del flagg è a disposizione 24 ore su 24 per tutti gli operatori che siano interessati per supportarli nella redazione dei progetti. I bandi scadono il 3 settembre, sono convenienti perché sono all'80%, il contributo pubblico è all'80% dell'investimento ammissibile, quindi sono belle cifre diciamo, quindi invito tutti a una grande partecipazione. Rostella Galati per la CNews24